Mi chiamo Lorenzo e sono un viaggiatore. Il mio progetto si chiama Vostok 100k. Viaggio col mio vecchio camper, ma anche a piedi. L'importante è raccontare. Queste sono le Vostok Drops, piccoli video pubblicati sui social nel corso dei miei viaggi. Non so quanti chilometri ho percorso oggi. Sto in un posto che si chiama Sivota, è stato un tormento oggi. Meno male che c'è Greta Garbo che con il suo sguardo magnetico un po' mi tiene compagnia stasera. Sto nel ridente alberghetto Ellas, dove alla modica cifra di 20 euro puoi avere una stanza con aria condizionata, bagno e letto soprattutto. Perché poi dice che c'è la crisi, quindi almeno i letti ce li hanno. E' stata una giornata incredibile. Perché arrivato a Plattaria, dove ho fatto la famosa diretta con la cara Luisa, che ormai è famosa. Gente che mi ha scritto in privato chiedendo di questa signora Luisa. Dopo qualcuno, andando verso Sivota, Sivota, a questo posto, c'era una montagna in mezzo. C'era da fare 12 chilometri intorno a questa montagna, che questo è Giavilmare, che l'ambita dalle acque del mare. Una persona mi ha detto, no, guarda che se segui questo sentiero lungo la montagna, arrivi in cima, svalichi e scendi e risparmi 5 chilometri. Non l'avessi mai fatto. Ecco, quello, 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 Giacob, di cui ho messo la fotografia sulla bacheca, è la persona che provvidenzialmente mi ha aiutato. Perché dopo ormai 5-6 chilometri che vagavo per questi sentieri di montagna, mi ha offerto dell'acqua e mi ha detto che quella strada, quella scorciatoia, non esiste più da 20 anni. E alla fine non bisogna prendere le scorciatoie, è la metafora della vita, insomma. Meno male che dopo che ho parlato con lui mi sono imbattuto in un simpatico souvenir, il primo simpatico souvenir di questo viaggio, questo corno di capra, lo raccolto naturalmente perché, insomma, con tutta la fortuna che ho avuto, sennò io dovevo stare ancora su quella montagna a vagare. Ora sono qui a Sivota, o Sivota, questa ridente cittadina greca, adesso mi faccio una doccia e quasi quasi vado a fare due passi, così mi vado a sgranchire le gambe. Che altro? Come adoro dire sempre ai miei amici, è una vita bagascia. Vabbè, saluti da Sivota Hotel Elas, me e Greta Garbo dietro, magari si sa mai stasera. Ok, ciao ciao.